Buongiorno, la prossima stagione turistica sarà all'insegna del Furiporta. Sembra profilarsi un'estate senza precedenti per il turismo outdoor. Una conferma, certamente dopo le performance in epoca Covid e nel post-pandemia, ma soprattutto una scelta che si rivela vincente per tanti italiani. Addirittura 9 su 10 hanno già scelto vacanze en plein air. I viaggi in libertà e nella natura, come rivela un recente sondaggio condotto da Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, in collaborazione con Human Company e Istituto Piepoli, stanno infatti diventando sempre più attraenti per le fasce dai 35 ai 54 anni. E la formula del viaggio all'aria aperta conquista anche gli stranieri che cercano attività complementari al classico soggiorno in Italia. Un ambiente bellissimo dove possiamo fare mountain bike, possiamo fare kayak, un mare bellissimo. Abbiamo lunghi cammini, siamo al Cammino Milano Santa Barbara, ma abbiamo tutta una rete sentieristica che si sta sviluppando in questi anni e permette anche di fare trekking e di vedere bellezze che non si possono vedere sicuramente in altri contesti. Io credo che ci sia tantissima offerta da questo punto di vista. Vacanze outdoor, weekend escursionistici, trekking, mountain bike e camping. L'esperienza diviene allora un vero e proprio investimento per i turisti outdoor che ricercano un'avventura su misura, ricca di attività coinvolgenti, servizi impeccabili e rispetto per l'ambiente. Il settore infatti lo scorso anno ha raggiunto nuovi traguardi grazie al prolungamento della stagione estiva a una crescente domanda da parte dei viaggiatori, tanto che i dati parlano chiaro. Fatturato complessivo di 6 miliardi di euro, 11 milioni di arrivi e un totale di presenze che ha sfiorato i 70 milioni a dimostrazione del successo del turismo open air. Oggi molti turisti, che sono molti ragazzi, ma non solo, hanno proprio il bisogno di vivere una vacanza in modo diverso. Non il solito resort, ma magari una posada, un rifugio, fare molta attività all'aria aperta, subacquea per esempio. E in occasione della Fiera del Libro d'Iglesias martedì prossimo, per l'appuntamento organizzato dalla FIDAPA Iglesiente, Stefano Vascotto, classe 1965, racconterà la sua avventura a piedi sul GR20, uno dei trekking più duri d'Europa, un'esperienza diventata un libro che raccoglie tutte le emozioni del viaggio sui sentieri della Corsica. È stata un'esperienza fantastica che comunque mi ha dato anche la possibilità di capire come funziona anche il turismo nei lunghi cammini. Sono ospite il 23 aprile qui a Iglesias, alla Fiera del Libro. Per me ormai è un appuntamento ricorrente, è già la terza volta che sono ospite qui alla Fiera del Libro e sono davvero contento, sono onorato di questo. Ringrazio anche la FIDAPA di avermi invitato. Sarà un racconto spero piacevole per tutti. Cagliari per un giorno capitale dell'astrofisica. Per tre giorni, dal 22 al 24 aprile prossimi, Cagliari sarà capitale dell'astrofisica con la seconda edizione del convegno di studi Astronomia e Astrofisica tra Scienze e Umanesimo, organizzato da 20 sigle coordinate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, compreso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Università degli Studi di Cagliari, la Regione Sardegna ma anche l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e le scuole Euclide e Azzuni del Capoluogo, i cui allievi e docenti sono chiamati a seguire una sorta di percorso di eccellenza. Le due scuole fanno infatti parte di una rete denominata Astro Sardegna, formata da otto istituzioni scolastiche sarde. Tema centrale l'astronomia e l'astrofisica tra scienze e umanesimo. Siamo veramente orgogliosi di aver organizzato questo evento. Ci saranno scienziati, studiosi di fama internazionale che si sono messi a disposizione della Sardegna, dei nostri ragazzi, dei nostri docenti, in modo tale che possano portare avanti un discorso di interdisciplinarietà tanto importante soprattutto per la crescita e la cultura generale dei nostri giovani. Il punto chiave dell'incontro è, come lo scorso anno, superare la tradizionale separazione tra cultura scientifica e umanistica adottando un metodo multidisciplinare sia nello studio che nella ricerca che permetterà di creare generazioni di menti pensanti capaci di risolvere problemi oggi ancora ritenuti insuperabili, di generare nuove visioni in grado di impattare in modo positivo e multidisciplinare nella vita di tutti i giorni e non che di migliorare la competitività dei nostri giovani in tutti i settori. I nostri ragazzi prima di tutto non sono secondi a nessuno. Ci siamo resi conto effettivamente che dobbiamo dare loro le stesse opportunità che sono offerte anche agli altri ragazzi in tutta Italia. Per cui è stato proprio organizzando questo evento e raccogliendo anche la disponibilità di tanti scienziati e tanti studiosi che metteremo a disposizione pareri, ragionamenti, secondo me tantissimi nuovi spunti di riflessione che non potranno che far crescere le competenze dei nostri ragazzi. Fiducia insomma alle nuove generazioni che hanno talento e niente paura. Non è detto che il percorso si debba concludere per forza all'estero. In Sardegna noi abbiamo una grande fortuna, il Sardegna Radio Telescope e tutto lo staff dei ricercatori dell'INAF si sono messi a disposizione e questa è una grande fortuna. E quindi anche noi abbiamo provato a ricostruire queste sinergie in modo tale da metterle a disposizione dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di stimoli perché sono bravi, sono bravi e quindi vanno valorizzati e noi ci proveremo. Appuntamento quindi a Cagliari, l'ingresso è libero nei tre giorni dei lavori. I docenti sia di area umanistica che scientifica potranno formarsi, confrontarsi e seguire insieme e con l'obiettivo di offrire sempre maggiori strumenti ai propri allievi le relazioni di esperti di chiara fama e partecipare il pomeriggio del 22 aprile presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Cagliari una tavola rotonda di altissimo spessore. Quindi a partire dalla giornata del 22 mattina fino a sera saremo all'Università degli Studi di Cagliari dove percorreremo una strada, faremo delle importanti riflessioni su questa tematica di integrazione dei saperi e poi passeremo il giorno dopo al liceo Euclide che è capofila del progetto, lì una seconda giornata e infine la terza e ultima giornata dei lavori che la terremo proprio all'SRT. SRT che come sappiamo è a nostra piena disposizione. A Sardegna esperienza, a Sardegna chiedo scusa, esperienza in Mongolfiera. Sardegna capisce la strada da percorrere, da fare, capisce l'importanza di scommettere sul territorio, il suo e quello dei paesi vicini. Sardegna fa rete, intuisce e mette in pratica la filosofia, l'archetipo, il modello di promozione e valorizzazione prima di tutto delle sue eccellenze. Il vino in testa, anche se per una volta, solo per questa, questo settore che è stato omaggiato e applaudito neppure qualche giorno fa a Verona, al Vinitali, sarà coprotagonista, anche se gli appassionati del e dei calici, rosso, bianco o rosè, o addirittura le bollicine già loro, tutte sarde, non si perderanno neppure un minuto di quello che la comunità ha allestito nei minimi dettagli, i particolari. Una giornata, insomma, che vale di più di un post sponsorizzato. Perché? Di valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Eccellenze tanto in termini di prodotti gastronomici, quanto di paesaggio, ma anche e soprattutto di persone. Infatti il nome stesso della manifestazione, Intrecci di vite, simboleggia tanto l'intreccio tipico della pianta della vite, quanto l'intreccio della vita delle persone che quotidianamente lavorano la terra e producono frutti rinomati e conosciuti in tutto il mondo. Già le persone, gli individui, non sono solo dei piccoli centri che interverranno alla festa, ma tanti, tanti forestieri, ovvero donne, uomini, famiglie e pure stranieri già, turisti, che da qualche anno hanno scoperto la bellezza e unicità di queste giornate dedicate alle tradizioni e alla cultura, ai riti di una volta e a quelle case disegnate tanto tempo fa, con uno schema longitudinale e caratteristico, caratteri, mestieri di un tempo. Vogliamo far conoscere il nostro territorio per le bellezze che può esprimere e sarà una festa che coinvolge tutta la comunità, infatti tutte le associazioni sono coinvolte e stanno partecipando attivamente nell'organizzazione della manifestazione. Una domenica particolare, molto particolare, una esperienza si direbbe così, ma è proprio così, una esperienza a tutto tondo, dall'ambiente, alla tavola, ai vini, alle degustazioni e alla esposizione di prodotti artigianali, già altra storia quella dell'artigianato in Sardegna e ancora escursioni in e-bike, spettacoli, musica, bambini e infine quella mongolfiera, che attraverso i media nuovi di comunicazione, Instagram in testa, versione verticale, stories, direbbero le generazioni nuove, rilancia, rilancia il nome di Sardiana tra i cittadini del web. Ah, non dimenticate l'immancabile cancelletto, l'hashtag Sardiana eppure Sardegna. Nuova edizione per Time in Jazz, vediamo. La 37esima edizione di Time in Jazz bussa alle porte con il suo seguito, come sempre, di grandi nomi nel panorama internazionale. Il tutto dall'altra 16 agosto nella splendida cornice di Berchida e non solo, per citarne qualcuno, Arzachena, Bortigiada, Sporto San Paolo, Ozzieri, Tempio Pausania, Tula e tanti altri ancora. La direzione artistica, come sempre, è affidata a Paolo Fresu, che nel 1988 ebbe l'intuizione culturale. Titolo del nuovo appuntamento, I Love Supreme. 37esima edizione, un'edizione molto importante, molto coraggiosa, quello sempre, ma diciamo con un tema particolarmente attuale, purtroppo. Il tema è a Love Supreme, partiamo da un disco di John Coltrane che ha cambiato completamente la storia della musica jazz e della musica del Novecento, un disco tra i più ascoltati della storia, un disco mistico, un disco che travalica la religione per andare in un luogo, che è quello della spiritualità, attraverso il linguaggio della musica. Abbiamo voluto usare questo titolo per incardinare un po' tutto il percorso di questo anno e per dire quanto la musica forse può essere utile per migliorare il nostro pianeta. Tanti nomi, veramente troppi forse da citare, ma posso magari citarne alcuni, quelli di Vinicio Caposela, quelli del giovanissimo trombettista americano Theo Crocker, Kenny Garrett, il grande sassofonista del gruppo di Miles Davis, il mio progetto Food insieme a Omar Sosa che arriverà in Sardegna per la prima volta, Nicola Conte, ma poi Roberto Gatto, Neri Marco Re, il concetto all'agnata e poi tutto quello che accade intorno a Time in Jazz, che lo ricordiamo non è solamente musica, ma è anche territorio, è scoperta di luoghi tra i più affascinanti della Sardegna e poi Time to Children, che è il festival nel festival dedicato all'infanzia. Il jazz nel bacino del Mediterraneo? Il jazz nel bacino del Mediterraneo credo che oggi sia capace di raccontare quello che succede in questo Mediterraneo, in un Mediterraneo dove il teatro delle migrazioni purtroppo è una delle tragedie più grandi che stiamo vivendo, ricorda che se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento, quelle anche di noi italiani, che siamo andati negli Stati Uniti e in altri luoghi, non sarebbe nato il jazz. Il jazz è la musica degli incontri, anche degli scontri per certi versi, appunto la musica europea che si incontra con la tradizione delle percussioni africane, allora questo è accaduto attraverso le migrazioni, noi non saremmo qua a parlare di jazz se allora non ci fossero state quelle di migrazioni e quindi tanto più credo che questa musica possa riflettere e dare una risposta concreta anche a quelle che sono le problematiche, soprattutto le istanze legate proprio al tema del Mediterraneo. Ecco, l'obiettivo di questa bellezza nei 37 anni è sempre rimasto lo stesso o nel tempo è cambiato? L'obiettivo di questa bellezza credo sia giustamente cambiato, è cambiato spero in meglio, nel senso che sempre l'obiettivo è quello di raccontare la bellezza attraverso la musica, è cambiata anche l'utenza, c'è un turismo anche culturale che allora non c'era quando il festival è iniziato nel 1988 e oggi noi dobbiamo necessariamente stare in ascolto, stare in ascolto non solo a ciò che noi riteniamo di dover offrire, ma anche a quello che il pubblico vorrebbe avere da noi. Fare un festival di musica oggi significa mettere insieme molte cose diverse, non solo il linguaggio creativo, ma anche e soprattutto relazionare i linguaggi creativi con quelli che sono i temi del territorio, che in questo momento sono fondamentali. Se vogliamo far sì che la gente nel mese di agosto dalle spiagge della costa Smeralda venga verso l'interno per capire che esiste una Sardegna altra, che può contraltare bene e dialogare con le coste, questo bisogna farlo attraverso i contenuti, i contenuti della musica, i contenuti della musica che investe il territorio penso che possano essere una giusta risposta. Una curiosità personale con un po' di storia della sua tromba. È un prototipo che è stato costruito per me da un artigiano olandese, proprio col mio nome, e quindi gli ho chiesto di non mettere quella lacca sopra che fa sì che lo strumento rimanga sempre un po' bello. La bellezza non è nella bellezza dello strumento, ma è lo strumento che genera la bellezza. L'ho trovato a casa e il mio sogno era un giorno poterla toccare, il mio sogno di bambino era quello, non era internet, non era il mio sogno, era uno poter toccare quella tromba che giustamente i miei genitori avevano messo nella parte alta della libreria. Dentro questo velluto e dentro quella custodia era adagiato questo strumento che era molto vecchio, quindi perdeva l'olio dei pistoni, quello che si usa per lubrificarli. Se qualcuno oggi dovesse chiedermi che cos'è la musica per me, io rispondo che è l'odore dell'olio dei pistoni della tromba. Ecco che cos'è la tromba, è semplicemente uno strumento per aprire le porte del mondo e che ci dà la possibilità, come tutti gli strumenti di qualsiasi tipo, per andare in un luogo molto più lontano rispetto a quello in cui siamo. Siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.